Quanto può essere piccolo il mondo per un uomo grande come lui? Qualcuno ha me chiamato il grande gigante gentile. Tu sei un paese di sogni adesso. Su Italia 1, la storia di una grande amicizia. Io ti chiamerò GGG. Da un romanzo di Roald Dahl, Un capolavoro, di Steven Spielberg. Il GGG, il grande gigante gentile. Sabato alle 21.20